buongiorno sono giulio zambon curo la collana di poesia di argento dorato editore oggi leggo una poesia tratta dall'ultimo libro di davide bergamin arsenica mi frugo in tasca esco senza chiavi per inventarmi la tristezza di un film bianco e nero nel suono dei passi che urtano i silenzi delle case chiuse e spente un gatto da lontano cambia strada pure lui per evitare incontri futili e inutili tentativi di discorsi poveri come un rimpianto puntato alla testa come il caldo del catrame che affoga nel sudore questa luna e la sua notte stupidamente mi frugo in tasca cercando chiavi che non ho mai avuto